L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che si aspetta di essere arrestato martedì nell'ambito dell'inchiesta sui soldi dati a una pornostar in cambio del suo silenzio prima delle elezioni del 2016 e ha invitato i suoi sostenitori a protestare. Citando una fuga di notizie dall'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Trump ha scritto un messaggio tutto in maiuscolo sulla piattaforma Truth Social. Il principale candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana, «Protestate, riprendiamoci la nostra nazione», scrive. Trump nel messaggio torna a parlare delle elezioni che ha perso contro Biden, sostenendo ancora falsamente che sono state rubate e aggiungendo che patrioti americani vengono arrestati mentre delinquenti di sinistra sono autorizzati a vagare per le strade.